I nuovi voucher calpestano l'articolo 75 della Costituzione e la decisione del governo di abolirli per evitare il referendum a fine maggio per poi reintrodurli subito dopo scippa i cittadini del diritto al voto. La CGL dunque si prepara alla mobilitazione con una manifestazione di piazza a Roma in programma il prossimo 17 di giugno a cui parteciperà anche una folta delegazione dall'Abruzzo. La situazione sui voucher è peggiorata secondo i sindacalisti che si rifanno al proprio testo della Carta Universale dei Diritti del Lavoro che contiene le proposte alternative agli strumenti di flessibilità del lavoro. Per le famiglie intanto è stato introdotto il libretto Famiglia per le aziende il nuovo contratto di prestazione occasionale. Vengono confermati tetti annuali ai compensi 5.000 euro e non più di 2.500 dallo stesso datore di lavoro. Secco il no della CGL a queste proposte che dicono continuano nel solco della precarizzazione del mondo del lavoro. In Abruzzo si parte da venerdì con una manifestazione al ponte del mare ma poi ci sarà la grande manifestazione di Roma il 17 a cui parteciperà anche la regione Abruzzo. Noi pensiamo che in questo percorso legislativo ci sia margine anche per qualche correzione nel senso che l'emendamento è già stato approvato in un ramo del Parlamento però il 23 dovrebbe passare in Senato. Quindi la nostra manifestazione del 17 si colloca in un percorso che speriamo possa far cambiare quello che è avvenuto perché in caso contrario noi andremo alla consulta. Abbiamo costruito anche un appello al Presidente della Repubblica e noi chiediamo anche ai cittadini della nostra provincia che nella provincia di Pescara noi abbiamo raccolto 4441 firme che sono state certificate e sono valide quindi questi cittadini della nostra provincia facessero sentire anche la loro voce perché è importante poter votare e quando viene sottratto la possibilità di esprimersi con un voto è veramente una minaccia quella che è la Costituzione del nostro Paese. Quindi il nostro è un appello che speriamo venga raccolto.